Sarebbe stato il titolare di un bar di San Marcellino, comune in provincia di Caserta, ad ammazzare il quindicenne Rom, scaricato poi cadavere l'altro giorno, davanti all'ospedale di Giuliano, comune in provincia di Napoli. È quanto si apprende dalle indagini condotte dalle forze dell'ordine che hanno fermato nel complesso quattro persone. A sparare sarebbe stato Raffaele Villano, 46 anni, uno dei titolari del Blue Moon, che ha accusato di omicidio e tentato omicidio dei tre complici del Rom, tra cui il cugino 21enne Alex, a sua volta rimasto ferito. Raffaele Villano ha spiegato agli investigatori di essere in uno stato di tensione continua, avendo subito un furto dieci giorni fa. In quella circostanza, ha aggiunto, i malviventi gli avevano anche sparato con una pistola a salve. L'uomo abita al piano superiore del bar, molto noto nella zona e frequentato da personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Poche ore prima del furto, Villano aveva inviato una torta ai calciatori del Napoli, per la vittoria della Coppa Italia. Quando è stato svegliato dalla sirena dell'antifurto, si è affacciato e ha visto quattro giovani che, dopo aver scassinato il locale, stavano caricando su un'auto la macchinetta mangiasoldi. A quel punto ha impugnato una revolver, legalmente detenuto, e ha fatto fuoco quattro volte. E prosegue in Campania la triste striscia di suicidi a causa delle difficoltà economiche. Nelle ultime ore due morti, uno in Irpinia, l'altro ad Ischia. Un imprenditore di 40 anni si è tolto la vita negli uffici della sua falegnameria a Baiano, in provincia di Avellino, sparandosi un colpo di fucile. Ad Ischia, Antonio Verde, 78 anni, si sarebbe ucciso a sua volta con un colpo di fucile, colpendosi al torace. Per ora non ci sono ulteriori aggiornamenti, ci vediamo con la prossima edizione del WebTG di Unica Channel. Buonasera a tutti.